Siamo lo Stan Nokia, in compagnia di Nokia Lume 520, che è il secondo modello presentato da Nokia dopo i C720 in questa fiera spagnola e occupa un gradino leggermente più basso rispetto al fratello maggiore. È dotato di sistema operativo Windows Phone 8 di connettività quadribanda GSM e HSPA Plus, dimensione 119.9 x 64 x 9.9 mm x 124 grammi di peso, processore Dual Core Snapdragon 1 GHz con 512 MB di RAM, memoria da 8 GB espandibile via microSD, una fotocamera 5 megapixel con videorecordi 720p e 30 fotogrammi al secondo, sul retro schermo touchscreen capacitivo da 4 pollici, risoluzione WVGA IPS LCD, Wi-Fi Bluetooth 3.0 GPS e una batteria da 1430 mAh e anche lui uscirà in diverse colorazioni della scocca. Sarà disponibile in Italia per un prezzo senza IVA né tasse di 169 Euro.